Manuela Maria Schiamone Come? Manuela Maria Schiamone E perché parli piano e via? Dai, io ti conosco Un po' di ricettazione Ti ricordi qualcosa che hai fatto? Io sbriati Eh? Io sbriati con mio fratello Ah, sbriati Vami vedere come una persona su un piano, eh dai Allora, sbriati, giusto? Eh, è proprio buono questo vino Però devi eliminare il sorriso Una persona che ombriata Non pensare a me, scusami Scusami Ok, ripeto il tuo nome? Il nome della Maria Schiamone Prego, a comodo